E' la stagione in cui arrivano i prodotti più interessanti del mercato, ma chi si aspettava Honor 8 Pro? Beh, è inevitabile parlare anche di Honor 8 Pro tra le grandi e importanti uscite di queste settimane che vedono arrivare vicinissimi l'uno all'altro sul mercato Huawei P10, Huawei P10 Plus, il Galaxy S8 di Samsung, l'LG G6, volendo anche HTC U Ultra e adesso aggiungiamo alla lista dei prodotti più importanti anche il nuovo Honor 8 Pro. Molti hanno espresso qualche perplessità perché questo oggetto arriva sul mercato al prezzo di 549 euro, la perplessità dei più è ma come? Huawei non aveva promesso che Honor sarebbe stato il prodotto e il marchio low cost, in realtà non è così. Honor è quello con il miglior value for money, ma non per questo deve essere un brand legato solo ed esclusivamente a prodotti di basso costo. Vediamo insieme da vicino Honor 8 Pro. Honor 8 Pro è dunque il vero outsider di questa stagione dei prodotti più importanti. arriva sul mercato a 549 euro, diciamo potrebbe sembrare un prezzo molto alto per quanto riguarda Honor, ma in realtà la tecnologia che sta qui dentro giustifica pienamente il prezzo, a partire dal display da 5,7 pollici con una definizione altissima. Un telefono in realtà che nonostante questa dimensione del display veramente gigante mantiene delle misure assolutamente contenute e un aspetto molto gradevole che richiama essenzialmente quello dell'Honor 8 che abbiamo conosciuto la scorsa estate. Attacco per le cuffie da 3 mm e mezzo, USB Type-C nella parte inferiore, l'altoparlante per la riproduzione dell'audio, mentre sulla parte superiore c'è ancora il sensore a infrarossi che trasforma questo telefono in un telecomando che può essere utilizzato per gli apparati più disparati, basta che ci sia il sensore ad infrarossi. Sulla parte frontale, oltre al display davvero gigantesco, è la fotocamera da 8 megapixel da notare, però che questa fotocamera non ha autofocus. Sulla parte posteriore invece un'altra delle caratteristiche ormai distintive per Huawei e di conseguenza anche Honor, ovvero la fotocamera doppia con due sensori da 12 megapixel e qui troviamo una delle prime caratteristiche di differenziazione tra il P10 in circolazione ad un prezzo superiore a 749 euro nella versione da 64 giga e 829 in quella da 128, cioè il P10 Plus infatti ha un sensore che è da 20 megapixel per la parte in bianco e nero e da 12 megapixel in questo caso invece entrambi sono da 12 megapixel. Altro elemento invece che riguarda la differenza tra delle fotocamere anteriore è che in questo caso non è invece presente l'autofocus per la fotocamera anteriore, però diamo un occhio alle possibilità che vengono proposte per la fotocamera. Il menu è vastissimo, avete ad esempio la possibilità della gestione pro esattamente come trovate sui prodotti di Huawei e poi volendo vedete la gestione video, la gestione pro anche per i video, lo scatto in bianco e nero, lo scatto in HDR, la creazione di immagini 3D, lo scatto in notturna, il panorama e poi insomma quello che ha fatto conoscere tempo fa Huawei con la famosa pubblicità del P8, c'è quella legata al light painting, c'è la presenza di timelapse e di rallentatore e poi la modalità di scansione documento. Se torniamo alla fotocamera però, scegliamo la fotocamera anteriore, potete vedere invece che le modalità sono leggermente più contenute, la modalità panorama quindi per il famoso group selfie e poi la possibilità di girare anche con la fotocamera anteriore un timelapse e poi la foto con filigrana. Faccio notare che a differenza di Huawei P10 Honor 8 Pro non ha il tasto centrale, viene mantenuto il sensore delle impronte digitali sulla parte posteriore ma il controllo di accensione viene invece in questa parte laterale, sempre sul lato invece c'è il volume rock o controllo del volume. Altro dettaglio è quello della possibilità di inserire una nano sim con una micro sd, in questo caso la memoria disponibile per quanto riguarda il telefono nel caso di Honor 8 Pro è quella di 64 giga con 6 giga di ram a bordo. Vorrei farvi dare un occhio anche al menu del telefono che a bordo ha Android 7.0, c'è la gestione della doppia scheda, diciamo prima che potete utilizzare la vostra slitta per inserire una micro sd e una nano sim oppure due nano sim e qui c'è la gestione delle sim. Sempre per quanto riguarda il menu viene ripreso anche in questo caso una soluzione già presentata su Huawei, quella cioè del menu del telefono con o senza drawer, siete voi a scegliere quale dei due utilizzare ovviamente. Tantissime le personalizzazioni anche della barra di notifica, potete scegliere ad esempio se in questa posizione volete l'indicatore della percentuale della batteria e se lo volete fuori dall'icona della batteria oppure dentro l'icona della batteria o farlo sparire completamente. Volendo potete visualizzare anche la velocità di download per quanto riguarda la rete a cui siete collegati e poi altra possibilità che potete scegliere è quella di indicare il nome dell'operatore oppure no. Sempre per quanto riguarda la personalizzazione potete scegliere come utilizzare i tasti di navigazione e ancora scegliere un ulteriore sfruttamento di quella che viene definita l'intelligenza artificiale del telefono. Diciamo che l'intelligenza artificiale forse ci aspetteremmo essere qualcosa di un po' diverso, però essenzialmente con Honor 8 Pro si promette una gestione del telefono un po' più avanzata, in particolare grazie alla gestione del movimento. Queste sono funzionalità che ormai conosciamo bene di Huawei e di Honor, avvicinando il telefono all'orecchio rispondete alle telefonate o chiamate un contatto di cui state leggendo il messaggio, sollevando il telefono, silenziate il telefono che sta suonando, così come girando il telefono disattivate una chiamata in arrivo. E poi avete la schermata intelligente, cioè il fatto che essenzialmente potete eseguire un doppio tocco e quindi fare un ritaglio del display per catturare alcune immagini. E poi essendo Android 7.0 avete il display suddiviso come soluzione nativa, io vi devo dire che in questo caso tra l'altro riuscire ad attivarlo è un po' complicato, ci sono altri telefoni secondo me che hanno soluzioni migliori da questo punto di vista. E poi avete l'altra possibilità, anche questa ormai una cosa che conosciamo molto bene da parte di Huawei e di Honor, cioè il fatto di disegnare con la nocca sul display per aprire un'applicazione. I tasti sono a schermo, la modalità di utilizzo di una mano sola viene sempre gestita con uno swipe sul docking, quindi sui tasti di funzione e il funzionamento generale del telefono è comunque buono. Scusate, io come al solito sapete che disattivo tutto prima di ogni recensione, quindi un po' delle funzioni vengono totalmente resettate. Guardiamo un attimo il funzionamento del telefono, siamo collegati in questo momento non a una rete wifi ma a una rete telefonica, tutto sommato il processore, il Kirin di Huawei, ovviamente per la navigazione internet con 6 giga di RAM non ha proprio alcun tipo di problema, vedete anche la reattività delle applicazioni è tutto sommato buona. Vorrei chiudere tutte le applicazioni, mostrarvi ad esempio l'apertura della fotocamera che è praticamente istantanea, così come vedete l'uscita anche dalle varie applicazioni. In linea generale invece è molto veloce il sensore delle impronte digitali che splocca il telefono immediatamente, la reattività del software secondo me è tutto sommato buona, ecco come dicevo io il limite che trovo oggi è il fatto che provato un telefono di Huawei essenzialmente siano tutti uguali, da quelli da 200 euro sino a quelli da 900, quello trovo sia un po' il limite in questo momento della proposta di Huawei. Buona la resistenza anche all'utilizzo dentro e fuori dalle tasche per diversi giorni ma la condizione è ancora assolutamente perfetta di questo telefono. La maneggevolezza, ecco quella non è il massimo, vedete che insomma con l'approccio con una mano non è esattamente facilissimo ma d'altra parte con 5,7 pollici di diagonale non so che cosa si possa volere di più. Insomma 549 euro per un processore molto potente, per 6 giga di ram, per 64 giga di memoria espandibile attraverso micro sd, una doppia fotocamera da 12 megapixel, sensore di impronta digitale, android 7.0 il che vuol dire anche Volcan e quindi la possibilità di utilizzare questo telefono anche con i videogiochi, con il massimo della potenza sia dal punto di vista della grafica che dal punto di vista di tutte le altre elaborazioni che vengono richieste al processore. Insomma io direi che molti hanno storto il naso per i 549 euro richiesti perché probabilmente si associa Honor ad un prezzo più basso ma secondo me li vale davvero tutti.